appuntatemi dovete fare una cortesia com'ha? un giardino qua dietro ci sta una pianta, anzi un albero che è pericoloso fare una cortesia, andate e tagliatelo maresciato ma non si chiede la cortesia di pigliare la motosega? la motosega? che lo so dire sta qui dietro a dietro dovete andare